ciao allora oggi video all acqua e sapone un po misto non c'è niente di make up questa volta con me lo scontrino allora ho preso questo detergente l'intimo della neutro metto ph 3.5 vermo potretto freschezza questo qui che io pagato un euro è buono l'abbiamo ripreso poi ho preso questo altro detergente l'intimo l'act sit era nuovo fresche d'una freschezza ma sì questi sono 200 ml questi sono 200 ml 1,90 e in omaggio con il l'act sit davano una mini taglia di detergente intimo nella in latta ma dato che non ce ne erano più mi hanno dato il colluttore parodontax da 50 ml poi preso le salviettine struccanti laurella che sono sempre comode che ho pagato 90 centesimi poi ho preso va bene gli olocolini per togliere i pelucchi del cane roba varia come questi questi qui dove sono un euro ce ne sono dentro 3 due di cariche un euro poi ho preso queste salviettine bimbi della agis ce ne sono dentro 56 sono sempre sono comode per togliersi di swatch o cose varie un euro poi ho preso il detersivo per i piatti limonello piatti con piatta natura della pelle da un litro 250 che ho pagato 60 centesimi poi ho preso questo garnier frutti aspettato questo shampoo fortificante rigenera forza di garnier per capelli fragili tendenti alla caduta da 250 ml 1,75 poi ho preso questo balsamo questo balsamo della herbal essence potere esattante al profumo di cocco da 200 ml 1 euro poi la carta igienica della scottex 1 euro e 35 poi queste ho preso queste come si chiama come si chiama insomma i conti da mettere nel bici per rigenizzare della DAC che c'è anche la ricarica cioè c'è un applicatore più due ricariche che costava 3 euro poi ho preso questa crema mani rigenerante nutrienti di natura verde da 75 ml con olio di argan bio 1 euro e infine ho fatto scorta di denti frici perché uno costava 75 centesimi 3 euro giusto? giusto! quindi ho preso dell'anticarboristeria questo purificante fino a 12 di freschezza menta e eucalipto poi ho preso sempre l'anticarboristeria 2 euro scusate 3, 2 euro 1,75 centesimi sbiancante questo denti più bianchi dopo 10 giorni salvia e bicarbonato sempre da 75 ml e poi ho preso sempre l'anticarboristeria questo nuovo anti carie pro forte contro le carie rimuove fino al 99% dei batteri bifloroattivo e timo questo qui e vabbè il sacchetto sacchetto vuoto questo era tutto quello che ho preso all'acqua e sapone se il video vi è piaciuto spolliciate se vi va iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo ciao!